Sciocchezza a parlare di alleanza con la Lega, scandiscono i 5 Stelle che tuttavia su alcuni temi come l'immigrazione, con noi al governo, basta soldi all'Europa se non ci ascolta, avverte Di Maio, condividono le posizioni del carroccio. Il Movimento 5 Stelle è concentrato sui contenuti, stiamo votando i nostri programmi con gli iscritti che vanno dal lavoro, la sanità, il fisco, l'ambiente. Questa fase si concluderà a fine agosto, poi a settembre il voto per il candidato Premier. Tutte le chiacchiere le lasciamo agli altri partiti. Grazie.